Grazie Massimo, buonasera a tutti. Grazie a tutti. E' un film che inizialmente è una parodia, ma è un momento di paese, di Brasil, che è una parodia realista. Buonasera a tutti. Prima di tutto volevo ringraziare il festival, grazie il festival per l'invito. E quello che potremmo dire del film è che è un film piccolino, è una piccola produzione, è un film girato in sei giorni con fondi personali, di tasca propria, tasca mia. E diciamo che anche se è una piccola produzione è stata fatta con grande passione e con grande amore ed è lo specchio dei tempi in Brasile, nel senso una specie di parodia di quello che sono i tempi moderni in cui la parodia in realtà si confonde con quella che è la realtà. e quindi è una parodia realistica. E' un gioco di parola. E' un gioco di parola. E' questo. Voglio dedicar la sessione a un grande amico italiano che sta qui nella platea, un grande diretor di cinema, Tonino Di Bernardi. E volevo dedicare un grande amico italiano che è qua in mezzo a voi, la regista italiana che è in mezzo a voi. Bene, grazie, buona visione. Ci vediamo alla fine per il Q&A. Grazie. Grazie. Grazie.